Vabbè, diciamo che quando la scissione c'è stata io ero in polemica fortissima con i compagni e le compagne del PDC, adesso mi sembra che molte differenze sono venute meno e questo lo ritengo un fatto positivo e quindi penso che potremmo fare tante cose assieme a cominciare dal dare uno sbocco e una prosecuzione di questa manifestazione nella costruzione di un'opposizione vera di sinistra in questo Paese.